in questi anni ho avuto il piacere di mescolare la mia passione per i fumetti con il mio mestiere di giornalista questo mi ha permesso di poter raccontare alcune vicende alcuni temi alcune storie che mi stanno molto a cuore usando un linguaggio secondo me secondo tanti potentissimo universale addirittura primitivo perché si basa sul racconto in sequenza per immagini su quello che molti chiamano storytelling un esempio di reportage a fumetti o di graphic journalism firmato dal sottoscritto e dal disegnatore Lelio Bonaccorso è Salvezza questo volume questa graphic novel editata da Feltrinelli che ha visto me e Lelio salire a bordo di una nave di soccorso l'acquarius come dei giornalisti se volessimo semplificare io ero il giornalista e Lelio era l'operatore ma sarebbe irrispettoso e ingiusto semplificare così questo tipo di lavoro perché il disegnatore ha un ruolo certamente molto attivo e molto legato anche al proprio sentimento a quello che si percepisce che poi si trasmette attraverso l'arte attraverso il disegno faccio un esempio io e Lelio siamo stati a bordo di questa nave per 20 giorni abbiamo assistito ad alcune operazioni di soccorso abbiamo visto come come lavorano i soccorritori spesso le persone soccorse riuscivano difficilmente a parlare ad aprirsi a raccontare le loro esperienze Lelio riusciva a rompere quel muro di sfiducia e anche paura di chi è appena sfuggito dalla Libia facendo dei ritratti era quasi un momento di gioco dopo questo momento in cui ci si ritrovava magari anche a sorridere delle interpretazioni dei ritratti che faceva Lelio delle persone soccorse queste persone si aprivano e cominciavano a raccontare senza nemmeno ricevere le domande quello che avevano vissuto in Libia quello che avevano vissuto durante il loro viaggio ecco questo legame tra passione sentimento empatia e giornalismo è una delle cose che rende grandi il graphic journalism e che lo rende potenzialmente uno dei grandi linguaggi del futuro grazie a tutti